jack 10 suited da cutoff sicuramente avremmo combinato qualcosa mini race aleasto questo dovrebbe essere ad alta frequenza un flat infatti flattiamo fold a bottone squeeze bello grosso, cioè size giusta small blind aleasto folder qua direi che flattiamo borderline perché ci va questo è un foto molto importante vincerlo o perderlo sposterà molto gli equilibri però siamo IP con una mano fantastica come jack 10 suited abbiamo 2.000, 2.500, 5.000, 5.500 abbiamo un pot è 5.500 l'effettivo è 8.100 quindi abbiamo una PSB e mezzo precisa sarebbe meglio avercene due siamo molto border anche il fold anche se sembra terribile in realtà purtroppo abbiamo troppo poco stack effettivo dietro rispetto a quello che dobbiamo andare a mettere però è vero anche che lui sta squeezeando in una dinamica non troppo strong perché sta squeezeando da small blind che è più wide rispetto a quando squeeze da big blind e lo sta facendo su open di aleasto che è un rag aggressivo da middle position e su flat mio di cutoff che non sono protetto in questa dinamica da alemonster quindi lui sa che io avrò parecchie mani speculative qualche mano abbastanza forte tipo 9.9 10.10 che non trivetto qualche assodonna però non ho mai monster quindi comunque si è uno spot dove Fulvio può andare anche abbastanza largo può trivettare tranquillamente KJKF che in questo caso ci domina però come trivetta KJKF può trivettare tranquillamente ASSO da maof può trivettare tranquillamente a frequenza anche gli ASX suited bassi quindi ASSO 2 ASSO 4 ASSO 5 ASSO 5 suited mani contro le quali abbiamo un equity troppo alta per foldare poi in più siamo in posizione fossimo state fuori posizione con questa PSB quindi con questo stack effettivo dietro avrei foldato però in posizione è close il fold non mi fa schifo però secondo me è leggermente meglio il flop oddio il flop non è terribile KD9 NUTS ok KD9 Jack19 NUTS NUTS con anche backdoor a fiore ci sono due quadri direi che ora con questa PSB dietro non è difficilissimo da giocare dovremo far fare tutto a lui quindi qualora checkasse betterei ma dovrebbe bettare ad alta frequenza sto flop quindi immagino che betta un terzo per shuvare molti turn e quindi noi in posizione ovviamente faremo solo call se lui ci betta flop se lui check betteremo perché è un board connesso vorremmo avere delle bet fold in breath perché lui ha dei give up diretti già al flop quindi qua NUTS è un board troppo dinamico per cercarlo behind ci sono carte come il jack hold 10 che frizzano l'action ci sono le quadri che frizzano l'action quindi non ho tanta paura non è una bett per protection nel caso in cui luce è casse perché sono abbastanza certo di avere la mano migliore e che rimarra tale ma è una bett per mettere i soldi adesso perché dopo potrebbero cadere carte per cui non mi parla più il mio avversario quindi se check bettiamo se betta calliamo lui betta ho sciovato ok infatti mentre lo stavo dicendo stavo pensando che se lui betta è quasi sempre dentro ok allora intanto come ho detto ci possono essere delle cose che poi a freddo giocherei diverso il motivo per cui ho sciovato in realtà qua stavo dicendo quando betta mi aspettavo questa size dovrei fare call per lasciargli pushare il turn però il suo range è un po' preflop il suo range comprendeva asso-asso che non sta foldando kk che non sta foldando asso-k che non sta foldando sul nostro ring k donna che non sta foldando k jack che non sta foldando perché c'è anche gazzot qualche asso x a quadri asso donna a quadri asso jack a quadri che non stanno foldando asso 10 a quadri dama x a quadri eccetera cos'è veramente che andiamo a perdere i suoi blef tipo asso 2 di picche se decide ci bettare ma con asso 2 di picche al turn non equiti non farebbe orino quindi in realtà anche se intuitivamente sembra che sulla bet sarebbe più conveniente fare solo call perché abbiamo nuts lui non sta quasi mai bet foldando questo flop sta quasi sempre bet callando e quindi noi pushando ottimizziamo il fatto che ci assicuriamo che non cada una carta brutta al turn non tanto che lui ci passa avanti perché tanto se ha 4 quinti giocherebbe uguale quindi non ci dobbiamo proteggere ma dobbiamo assicurarci di prendere tutti i soldi e pushando adesso è più probabile prendere tutti i soldi rispetto a che se cade un 10 di quadri al turn magari abbiamo sicuramente molto probabilmente avremo ancora una mano migliore con scala però lui quel 10 a quadri lo spaventerà se c'è asso asso non ce li dà tutti i soldi se c'è asso k non ce li dà tutti i soldi quindi questo è uno lean con nuts perché sono convinto che sia più probabile prendergli tutti i soldi al flop rispetto a correre il rischio che cada una carta al turn che freeza l'action e che lo fa foldare quindi non ci stiamo proteggendo da carte brutte che possono insediare la nostra leadership ma ci stiamo assicurando di prendere tutti i soldi mentre invece se facciamo call potrebbe cascare una carta brutta tale per cui lui non ci dà tutti i soldi quindi anche se la prima cosa che ho detto era che se lui bettava avrei fatto call in realtà non mi dispiace per niente quello che ho fatto in game pensandoci meglio mi piace un sacco l'olino perché lui il 90% di quello che betta lo sta callando e invece callando la sua bet piccola dobbiamo pregare che cada una blank ma se cade una quadri un 10 o un jack non prendiamo più i suoi soldi quindi non mi dispiace assolutamente l'olino assolutamente con questa psb non mi dispiace perché asso k si fa il segno della croce perché sa di poter essere dietro ma non folda mai deve mettere 6.6 su 27 non folda mai deve essere buono il 25% delle volte io posso avere flash draw asso k non folda mai quindi se asso k è sempre dentro possiamo tranquillamente pushare asso k comprende una grossa parte del suo range più tutte le mani che ovviamente sono dentro kk donna donna asso asso le combo di quadri però il problema sarebbe se asso k trovasse l'ero fold ma asso k con questo board con flash draw non trovo mai l'ero fold magari su k donna 9 rainbow trova l'ero fold perché non possiamo avere flash draw noi ma su k donna 9 con due quadri non trova l'ero fold quindi non mi dispiace non mi dispiace per nulla l'olino che ho fatto in game anzi direi che è la soluzione migliore quindi non vado a criticare in questo caso me stesso come magari stavo per fare ma invece no non mi dispiace come l'ho giocata vediamo se ha funzionato infatti il nostro versare lo chiama e gira niente gira k donna off allora per quali motivi questa mano è interessante vabbè al flop è un puller ok va bene io ho flopato scala lui ha flopato doppia però vedete che il mio flat con jack 10 suited era profittevole lui non aveva solo monster nel range vedete che squeeze wide che ha fatto k dama off ha squeeze alto quindi l'avevo letta bene la mano il suo range non era costituito solo da asso asso kk donna donna jack jack 10 10 per flop e asso k ho flattato jack 10 suited perché sapevo di poter affrontare anche mani weak se c'è k donna off c'è anche asso 2 suited e mani del genere quindi lui in questo spot sta trivettando sta squeezeando molto largo e quindi io con jack 10 suited ho tanta equity e ho carte libere un numero ragionevole di volte tale per cui è conveniente andare a flattare siamo pure in posizione poi lascia perdere che ovviamente quando cade k donna 9 lui è contentissimo io sono ancora più contento al flop non c'è nessuna schia addirittura ho fatto colore si addirittura non ho fatto neanche schia ho fatto colore la nerland vabbè cambia poco vabbè al flop è un cooler non c'è niente da dire però il fatto che abbia girato k donna off giustifica il nostro flat preflop se ci girava kk avremmo vinto lo stesso la mano però magari la mia poteva essere sbagliato il range che gli attribuivo e quindi poteva essere un fold preflop mentre invece io ero abbastanza certo che lui potesse avere mani weak come k donna off asso 2 asso 3 asso 4 asso 5 suited prova del genere che giustifica il mio flat alla trivet con jack 10 suited siamo avanti abbiamo un bello un bello stack era avanti ok grazie a tutti